Ciao a tutti, è appena finito il Summit di Scienze Motorie 2019 Mentori, si è svolto in una location strepitosa, mai visto qualcosa di simile per gli eventi nel settore delle scienze motorie, speaker di altissimo livello, assolutamente molto stimolante, c'è stato Spattini, c'è stato il dottor De Idda, c'è stato il dottor Valente e tutti gli speaker si sono rivelati di altissimo livello, sicuramente vado a casa con moltissimi stimoli, consiglio a tutti di partecipare perché anche il networking che si riesce a creare è di livello assoluto. Grazie a tutti.